Sì, ti guardi, ti guardi. Sì, ti guardi, ti guardi. Sì, ti guardi. Sì, ti guardi. Sì, ti guardi. Sì, ti guardi. Sì. 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 L'hotel finisce in una pista? La pista che l'ho sentito fatta sui bambini, la strada. Tu la prendi a destra vicino a un periodo di mattina, ti ha attaccato l'hotel in fronte. Questa pista qui? Inizierai tra tu in fondo in fondo e mattini da destra. Questa porta in centro, in fondo in fondo, no? Dove c'è il ristorante? Esatto. Facciamo una coletta. Oh, e di? Facciamo una coletta. Quello della ecqua. Lasciamo andare? No, 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 no. Cacca, cacca, cacca. Lasciandare o inizier? Intim 상u. Capica. Lasciandare o inizier. Libertatari cacca. Celelo, Bedra optimistic. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.